Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a questo nostro webinar di lunedì sera. Questa sera parleremo di prodotti e parleremo di come possiamo avere la possibilità di distribuire questi prodotti, presentare questi prodotti conoscendo poche semplici notizie che siano alla possibilità di tutti, in maniera tale che tutti quanti possono avere la possibilità di fare la stessa cosa. Chiedo magari a qualcuno che è già collegato, se vedono la prima slide con il logo della DixN e se sentono la mia voce, così che possa andare avanti in maniera dire... Grazie Angela, grazie e benvenuta. Allora, quindi in questo modo posso andare avanti. Chi vi parla è Giuseppe Girlando, sono il country manager della DixN Italy. DixN Italy è una delle centinaia di filiali della DixN International sparse in tutto il mondo. Questa sera appunto, più che la conoscenza dei prodotti, noi diciamo la conoscenza dei prodotti la deleghiamo sempre, la affidiamo a voci scientifiche, quindi a medici, naturopati, ricercatori che ci affiancano costantemente, perché sono probabilmente le persone, certamente le persone con più conoscenza, le persone che hanno più anche capacità nel trattare determinati argomenti. Questa sera appunto io tratterò degli argomenti semplici, comunicati con semplicità, perché dobbiamo sempre ricordare che la maggior parte dei nostri collaboratori sono delle persone più variegate, quindi che hanno un background delle esperienze professionali che sono differenti tra loro. Quindi possiamo trovare degli imprenditori, possiamo trovare dei professionisti, possiamo trovare degli impiegati, possiamo trovare qualsiasi persona che ha inizialmente conosciuto la DixN, ne ha apprezzato i prodotti e così ha iniziato magari per gioco un'attività di public relation, ha condiviso questi prodotti inizialmente con le persone più vicine e poi mano a mano ha preso forza, ha preso conoscenza e quindi quotidianamente parla appunto della proprietà del ganoderma, delle proprietà dei nostri prodotti a tante persone, ma sempre fatto con molta semplicità. Quindi questa sera appunto andremo a fare un piccolo corso sui nostri prodotti. Innanzitutto diciamo come conoscere i prodotti della DixN? Innanzitutto conoscere le diverse strategie per proporli, conoscere le caratteristiche principali e speciali soprattutto dei nostri prodotti, conoscere le caratteristiche alimentari sui prodotti, capire come sono posizionati i prodotti della DixN nel settore del benessere e conoscere gli strumenti relativi alla conoscenza dei prodotti per crearne richiesta. Quindi per cercare di far comprendere le peculiarità di questi prodotti, l'importanza di abituare il nostro corpo a rinforzare il sistema immunitario attraverso una corretta alimentazione, ma anche attraverso un'integrazione. Conoscere le diverse strategie. Quindi è importante comprendere che differenza c'è fra i prodotti della DixN e i prodotti dei nostri competitor, di altre aziende. Per capire questo possiamo immaginare due diverse categorie di consumatori. All'interno di queste categorie di consumatori andremo a vedere che ci sono due grossi gruppi. Uno di questi gruppi è estremamente concentrato sul prezzo. Un altro invece è concentrato soprattutto sulla qualità dei prodotti della DixN e soprattutto sulla certezza e sulla sicurezza di proporre e di vendere prodotti di qualità. Vi sarà capitato di, probabilmente, di incontrare delle persone che sono molto attente, diciamo, al concetto del prezzo. Sono molto attenti al prezzo, magari per esigenze personali o perché comunque non danno molto valore magari a quel prodotto per uso personale. La DixN, diciamo, in questo si posiziona con dei prezzi che sono dei prezzi medi. Sono dei prezzi che sono alla portata di tutti, ma dietro hanno una altissima qualità. E questo, diciamo, è stato sempre uno dei punti di forza e anche una delle caratteristiche della nostra azienda. Cioè non cedere mai, per logiche di mercato, ad una qualità non eccelsa. Perché certamente quando si parla di prodotti naturali dobbiamo essere assolutamente certi che questi prodotti siano veramente stati trattati, quindi coltivati, successivamente processati con tutti i criteri legati a una qualità. Perché, ripeto, siamo sempre di fronte a prodotti naturali, quindi un prodotto naturale ha un'efficacia importantissima sul nostro corpo, ma certamente molto più modesta rispetto a un prodotto chimico, che certamente ha un'azione molto più veloce nel tempo, ma sappiamo anche che va a lasciare dei residui assolutamente dannosi per il nostro corpo. Al contrario, il prodotto naturale lo dobbiamo vedere, un integratore lo dobbiamo vedere non come una medicina, ma lo dobbiamo andare a vedere come una prevenzione. Quindi, abituando il nostro corpo e rafforzando il nostro sistema immunitario e con una serie di integratori, possiamo, e anche con una corretta alimentazione, possiamo certamente avere delle difese immunitarie molto più alte. Quali sono i punti di forza dei prodotti della DXN? Innanzitutto il concetto One Dragon, cioè che la nostra è un'azienda verticalmente integrata. Che cosa significa? Che tutti i processi, fin dal momento in cui viene preparato il famoso tronchetto, il famoso involucro di polipropinale espansa biodegradabile, riempito con pulpa di riso e segatura dell'albero della gomma, arricchito con ben 21 minerali, già da lì, per ogni processo successivo, quindi la crescita del ganoderma, quindi la trasformazione del ganoderma, quindi il confezionamento, quindi la distribuzione nelle nostre case, viene sempre fatta da personale staff della DXN. Questo perché? Perché non affidiamo assolutamente a terzi nessun tipo di processo, perché vogliamo essere gli attori principali e vogliamo essere assolutamente sempre responsabili per ogni tipo di processo. La nostra è una tecnologia unica. Noi abbiamo sviluppato in questi quasi 30 anni, quindi oltre un quarto di secolo di ricerca e sviluppo, una tecnologia rappresentata da cinque brevetti depositati dalla DXN che garantiscono appunto un'unicità. sono prodotti per uso quotidiano e questo è molto importante per chi non lo vede solo, diciamo, come consumatore, ma anche come business, perché è molto importante. È importante perché, chiaramente, perché svolge anche l'attività a sapere che tratta dei prodotti che vengono acquistati, consumati e riordinati, dà ovviamente una garanzia di flusso di vendite, quindi flusso di attività commerciale, quindi flusso di commissioni. Sono dei prodotti di tendenza. Questo è molto importante perché noi siamo inseriti pienamente nel settore salute e benessere, che è uno dei settori dove il consumatore e dove le persone rivolgono più attenzione rispetto ad altri settori. Come abbiamo detto, la nostra è un'azienda verticalmente integrata, quindi coltiviamo, produciamo e distribuiamo e di questo, diciamo, ne abbiamo già accennato. Il concetto di One Dragon si esalta in una serie di azioni, azioni che sono molto importanti per noi. Innanzitutto controllare costantemente la qualità, controllare costantemente i costi. Perché è importante controllare i costi? Controllare i costi ci dà la garanzia di poter promuovere dei prodotti sul mercato a dei prezzi che sono accessibili a tutti. Vi racconto, diciamo, questo aneddoto che fu raccontato dal nostro fondatore e presidente, che all'inizio, quando lui intraprese questa sua attività, aveva un monoprodotto, che era appunto l'estratto di Ganoderma, il famoso Reishigano. Pensate che solo 30 capsule di questo Ganoderma venivano vendute a oltre 100 dollari. Questo perché? Perché ovviamente la produzione era limitata e che quindi chiaramente i costi erano tantissimi. Oggi noi, dopo tanti anni, dopo tanti investimenti e soprattutto grazie al controllo dei costi, grazie a moderne tecnologie di coltivazione, siamo arrivati ad avere le stesse capsule con la stessa percentuale di purezza del Ganoderma a un prezzo intorno a poco meno di 20 euro. Quindi pensate, diciamo, che sviluppo che c'è stato. Facciamo costantemente ricerca e sviluppo, quindi una grossissima percentuale dei nostri introiti viene sempre destinata alla ricerca. Questo, diciamo, un altro dei nostri obiettivi è quello di assicurare sempre il massimo pagamento dei bonus, perché sappiamo che un distributore felice che è gratificato per il lavoro che fa attraverso il pagamento delle commissioni certamente trasferisce questa sua passione, questa sua felicità anche ad altre persone. Alcuni dati, il 40%, diciamo, fatto 100, quindi il 40% delle nostre vendite viene destinato ai costi di produzione, il 60% che otteniamo sul risparmio della pubblicità, del marketing, diciamo, di tutta la filiera, no? Che può portare il prodotto nei negozi, che è circa un 60%, noi lo rimettiamo a disposizione dei nostri distributori. Prodotti. Vi ho parlato che abbiamo un'esclusività in questa produzione, in questa tecnologia. Da che cosa è data? Dalla cultura dei tessuti, quindi noi abbiamo adottato queste mi dicono qui in chat che non si sente più nulla. Gli altri riescono a sentire la mia voce? Perché a volte possono esserci dei... Ok, adesso si risente. Benissimo, scusate. Quindi la cultura dei tessuti. Cos'è la cultura dei tessuti? È praticamente una tecnica che viene utilizzata già da diversi anni per andare a replicare, lo dico in maniera semplice, per andare a replicare sostanzialmente le caratteristiche di una pianta, nel nostro caso di un fungo. Quindi noi da una singola pianta siamo riusciti praticamente a creare milioni praticamente di altre piante, di altri funghi che hanno tutte quante le stesse proprietà. E questo è molto importante, il fatto di dare sostanzialmente una garanzia di linearità. Perché? Perché sappiamo che in agricoltura magari puoi avere delle stagioni, delle annate, parliamo di vino, dove il vino è molto buono, le olive sono molto buone, e poi magari è una stagione che è meno felice e quindi il vino è meno buono, oppure l'olio che si produce non ha le stesse caratteristiche organolettiche che poteva avere diciamo l'anno precedente. Invece nel nostro caso, diciamo noi avendo massimizzato un po' questo processo, riusciamo a far, diciamo, a garantire per tutti i nostri, principalmente per il nostro organoderma, sempre lo stesso standard. Abbiamo una coltivazione biologica, una coltivazione biologica che viene effettuata principalmente nelle nostre piantagioni in Malesia, quindi abbiamo un certificato rilasciato dal Ministero della Salute malese, comprovato questo ovviamente dal certificato biologico europeo. Non ultima abbiamo anche in Italia, così come negli altri paesi, il certificato biologico, nel nostro caso rilasciato dal più importante ente che rilascia questi certificati che è la CCPB. Quindi anche qui noi abbiamo sostanzialmente una serie di conferme che confermano il primo certificato biologico. Un'altra, diciamo, delle nostre caratteristiche esclusive è la separazione delle fibre. Quindi andiamo a eliminare attraverso questi processi tutti quei componenti che non sono così importanti per il nostro organismo. Poi utilizziamo la polverizzazione delle microspore e quindi trattiamo tutto con raggi ultravioletti per aumentare il trattamento terapeutico. Ancora, quindi diciamo che questo qui ve l'ho già ve l'ho già diciamo enunciato precedentemente. Come possiamo creare domanda? Perché vi sarete sempre probabilmente a volte ma oggi diciamo che il consumatore è un pochino più informato quindi già quando magari voi gli parlate del ganoderma rispetto a tanti anni fa dove il ganoderma era conosciutissimo presso i mercati asiatici grazie alla medicina tradizionale cinese in Europa diciamo tanti anni fa si stava affacciando. Oggi invece molte persone si sono avvicinate dei funghi medicinali il ganoderma è primo fra tutti ma non solo ci sono tantissimi funghi che hanno degli effetti terapeutici molto importanti e quindi può capitarvi ancora oggi che qualcuno vi dica ma guarda io non conosco il ganoderma sinceramente mi sento bene non ho bisogno di spendere dei soldi per migliorare il mio benessere quindi grazie ma non ho bisogno di questo prodotto e quindi lì sostanzialmente si ferma la nostra vendita si ferma diciamo il nostro mercato però se noi in un certo modo informiamo perché dobbiamo dare per scontato che tutti sanno tutto e quindi andiamo a in un certo modo informare far comprendere determinate dinamiche possiamo andare a creare dei bisogni che non sono dei bisogni finti ma in realtà facciamo prendere consapevolezza di quanto sia importante una corretta alimentazione magari con il contributo di integratori e quindi per fornire delle informazioni sui prodotti è molto importante conoscere i principi della corretta alimentazione che questa sera ne parleremo in maniera molto semplice molto banale molto superficiale perché ovviamente non possiamo e non vogliamo soprattutto porci come medici porci come per quello che non siamo quindi quindi la cosa più semplice è usare delle teorie sull'alimentazione per creare domanda sui prodotti per aumentare le vendite e conseguentemente per aumentare il nostro bonus una delle prime teorie è la teoria alimentare che possiamo andare a diciamo suddividere su questi sotto argomenti teoria teoria dei cibi acidi contro quegli alcalini teoria degli enzimi la teoria del verde teoria di tutto ciò che fa bene al tuo stomaco può far bene al tuo viso e quindi la formula del 4 più 1 più 1 più 10 che vedremo alla fine teoria appunto dell'acido contro alcalino se ne parla tantissimo è una teoria assolutamente condivisa da tantissimi medici che possiamo andare a semplificare in questo modo cioè che il corpo umano ha bisogno di mangiare cibi alcalini e acidi nel rapporto di 4 a 1 noi inevitabilmente per le nostre abitudini alimentari moderne facciamo esattamente il contrario quindi troviamo ad esempio cibi acidi come nella carne nei soft drinks coca cola aranciata eccetera cibi lavorati zuccheri carne di maiale bevande alcoliche caffette nero eccetera cibi alcalini sorgo miglio grano mais e verdure quindi certamente qualcuno collegato questa sera che io conosco sta molto attento alla propria alimentazione però parlando della massa quindi andando a generalizzare ahimè purtroppo tutti quanti diciamo abbiamo questo rapporto di 4 a 1 quindi questo rapporto sbilanciato e quindi come possiamo fare? ci possiamo far aiutare appunto dai prodotti della DXN quali le RG e il GL che sono appunto il Ganoderma lo Spicate il Linzi Coffee la Spirulina il Morinzi quindi tutti i cibi che in realtà ricchissimi alcalini e quindi possiamo andare pur facendo diciamo ancora un'alimentazione non perfettamente corretta però la possiamo andare a riequilibrare grazie appunto a questi integratori poi possiamo parlare della teoria degli enzimi il diabete non è il problema il cibo è il problema quindi anche qui che cosa possiamo fare? possiamo andare a riequilibrare o comunque a compensare questa mancanza di enzimi attraverso sempre dei prodotti della DXN per fare un esempio molto molto anche qui molto banale la mancanza di enzimi si manifesta quando ci rendiamo conto che alcuni cibi che tranquillamente riuscivamo il nostro riuscivamo a digerire in maniera molto semplice nel tempo non riusciamo più a a mangiare perché perché come si dice la digestione fa molta fatica e quindi siamo lì il nostro apparato digestivo fatica e quindi man mano abbandoniamo magari alcuni cibi che magari ci facevano bene che magari ci piacevano proprio perché non riusciamo più a compensare e quindi anche qui i nostri integratori come il ganoderma il cordipine che è appunto ananas fermentato e cordiceps la spirulina il morinzi che è il succo di noni possono anche qui aiutare a riequilibrare questo discorso degli enzimi ma non solo voglio ricordare anche uno degli ultimi prodotti che abbiamo introdotto che sono la marmellata di mele e il succo di mele anche qui fermentato quindi anche qui ricco di enzimi quindi diciamo tutti i prodotti che possono essere sostituiti magari a dei prodotti industriali che magari la mattina con la nostra marmellata di mele fermentate possiamo tranquillamente spalmarla sulle fette biscottate al posto di una marmellata seppur buona di primissima qualità ma che non ha diciamo queste proprietà queste peculiarità come la nostra oppure bere durante la giornata un ottimo succo di mela nostro al posto magari di un succo di frutta sempre di ottima qualità che però non ha le stesse peculiarità poi c'è la teoria del verde anche questa probabilmente per chi si è avvicinato magari a qualche dietologo avrà fatto gli avrà fatto presente quanto è importante mangiare diciamo delle verdure quindi le verdure che hanno quel colore verde perché questo perché ovviamente vanno ad aiutare tutto il ciclo praticamente dei globuli rossi anche qui se non vogliamo diciamo anzi se vogliamo integrare perché dobbiamo anche immaginare una cosa che al di là che magari abbiamo l'orto sotto casa del nostro vicino magari anche nostro dove sappiamo che il terreno è fertilizzato in maniera corretta non in maniera non corretta che è privo di inquinamento eccetera eccetera però al di là di questo quando noi andiamo ad acquistare delle verdure dobbiamo renderci conto che queste verdure pur facendoci bene ma non hanno tutti quegli elementi che potevano avere 70-80 anni fa dove i terreni erano meno inquinati dove l'acqua era meno inquinata dove l'aria era meno inquinata quindi vero è che magari mangiamo un cavolfiore mangiamo un broccolo però dobbiamo essere consapevoli che queste verdure non possono avere le stesse proprietà nutritive che potevano avere 70 anni fa 80 anni fa e quindi qui possiamo andare a compensare con dell'ottima spirulina di Xen spirulina che appunto sono delle alghe la spirulina è stata appunto definita super cibo e quindi anche qui come vedete possiamo aiutarci con un prodotto fatto ad hoc e quindi compensare e integrare per la nostra alimentazione chiudiamo con la formula del 4 più 1 più 1 più 10 quindi se volete dare un suggerimento per stare meglio per rafforzare il sistema immunitario e per appunto andare a integrare quella che magari può essere già una corretta alimentazione è quella di prendere 4 capsule di granocelium quindi di micelio del ganoderma oppure anche qui potete fare 2 capsule di RG quindi del corpo del fungo e 2 capsule di GL una bustina di Lindsay Coffee 3 in 1 che è appunto il caffè con aggiunta di ganoderma ricordo che in questo caffè solubile ottenuto da caffè di primissima qualità come arabica e forte oltre ad avere una percentuale di ganoderma abbiamo dello zucchero di canna e della panna vegetale quindi per chi è intollerante praticamente al lattosio ma per chi magari soffre di diabete oppure non gli piace il caffè zuccherato può anche qui sostituirlo con il black coffee che è appunto caffè nero solo con aggiunta di ganoderma poi abbiamo un si può suggerire un cucchiaino di Morinzi quindi il succo di Noni e 10 compresse di spirulina questo questo mix questa soluzione aiuteranno sicuramente ad avere molta più energia e a rafforzare il sistema immunitario vediamo adesso com'è il posizionamento dei prodotti con questo posizionamento dei prodotti noi possiamo andare a vedere diciamo i problemi quindi possiamo parlare dei problemi legati a delle abitudini problemi che sono legati dalle tossine dai radicali liberi ma non solo magari diciamo le tossine i radicali liberi non non sono la conseguenza solo di una cattiva alimentazione sono conseguenza anche di uno stress di un estira di vita stressato malnutrizione abitudini alimentari sindrome non ho soldi non ho tempo ecco la soluzione quale può essere i prodotti della Dixen che ti aiutano fornendoti il miglior supporto quindi ad ogni diciamo problema noi possiamo trovare una soluzione semplice una soluzione che abbiamo in casa nutrizione parlando di nutrizione appunto come vedete in questa bellissima slide la nutrizione diciamo la possiamo dividere in macronutrienti e micronutrienti cosa troviamo nei macronutrienti proteine grassi carboidrati fibre acqua quindi questi sono tutti i nutrienti che trasportano energia i micronutrienti vitamine minerali oligoementi enzimi fitonutrienti e clorofilla permettono alle cellule di estrarre l'energia dai macronutrienti quindi riepilogando il corpo è composto da un'infinità di cellule il corpo è come una macchina quindi ha bisogno di manutenzione quindi quello che diciamo sempre noi i nostri prodotti non servono per dimagrire i nostri prodotti non non hanno diciamo una specificità individuale no? ma in realtà noi vediamo il nostro corpo nel suo insieme nel suo complesso quindi riteniamo che se come una macchina che ha bisogno costantemente di manutenzione quindi del cambio dell'olio della pulizia dei filtri così il nostro corpo quindi il ganoderma aiuta in questo processo aiuta a pulire a disintossicare e a rinforzare contemporaneamente contestualmente il nostro sistema e quindi se noi pensiamo che il nostro corpo è sottoposto a uno stress continuo questo corpo diciamo cosa fa? siccome è una macchina perfetta combatte contro le sue stesse sussine però in questa diciamo in questo processo molte volte il corpo perde la sua battaglia il corpo ovviamente non ci può parlare non è che viene fuori e ci dice guarda non mangiare più il panino di mecche oppure guarda che io ho bisogno del mio fegato venga ripulito però ci parla in un altro modo perché comunque vediamo che tanti alimenti non li possiamo più mangiare vediamo che a volte se facciamo una rampa di scale incominciamo ad avere l'affanno quindi ci sono tanti campanelli dove il nostro corpo ci sta parlando e noi dobbiamo cercare di individuare questi messaggi dobbiamo individuare questi messaggi perché il nostro corpo ci chiede aiuto e quindi attraverso una corretta alimentazione e una corretta integrazione con i prodotti della DXN possiamo aiutare il nostro il nostro corpo in questo ci aiuta tantissimo che cosa il nostro core business il nostro canoderma il nostro re scicano perché perché il canoderma non perché ve lo dice il sottoscritto che non ha competenze scientifiche ma io mi sono documentato e comunque ci sono tantissime pubblicazioni oggi di studi fatte da ricercatori da medici da scienziati che ci dicono che il canoderma ha degli elementi attivi molto importanti i principali sono i polisaccaridi che è un po' proprio la componente più importante del canoderma ma non solo al germane organico il germane organico che è un minerale importantissimo perché è quello proprio che va a ossigenare le cellule quindi che va proprio a diciamo a quest'azione proprio sulle cellule alla denosina ai triteplenoidi di essenza canoderica e pensate che ha oltre 400 elementi al suo interno l'RG appunto l'RG che sta per Raishigano che ricordo è il corpo del fungo il nostro fungo legnoso quindi la parte come vedete che può assomigliare quasi a così a un cuore o o a due due polmoni no o un fegato possiamo diciamo immaginarlo come vogliamo e quindi il cappello il corpo del fungo è quello che noi chiamiamo Raishigano ed è quello più ricco di triterpenoidi di adenosina e di polisaccaridi e l'RG è assolutamente indicato per la disintossicazione del nostro corpo al contrario GL che sta per Ganocelium quindi Micelio quindi le radici del fungo è quello più ricco di germani organico di acido ganoderico di polisaccaridi minerali e vitamine e il Ganocelium è quello più indicato per riequilibrare ecco perché noi suggeriamo sempre di prendere in combinazione l'RG quindi il corpo del fungo Raishigano con il Ganocelium il GL perché perché uno va a disintossicare l'altro va a riequilibrare quindi abbiamo un'azione di pulizia e un'azione di rafforzamento del nostro sistema immunitario parliamo adesso di spirulina che è molto più conosciuta e la spirulina i benefici quali sono? che è una fonte alimentare completa è una sinfonia praticamente quindi troviamo all'interno della spirulina proteine carboidrati grassi fibre fitonutrienti clorofilla insomma come vi dicevo è una sinfonia alimentare la spirulina è un'alga in particolare l'alga che cresce nell'acqua uno degli elementi più importanti oltre alla diciamo al pH dell'acqua che deve essere costantemente controllato ma è soprattutto il sole le nostre piantagioni sono nel cuore della giungla malese dove abbiamo diciamo dei raggi solari importanti che fanno sì che questa spirulina assorba praticamente tutto in maniera totale e quindi sia ricchissima diciamo di tutti questi di tutti questi componenti il granotermo è un adattogeno quindi adattogeno significa che va bene per ogni tipo di particolarità del nostro corpo che cosa significa adattogeno che va a compensare appunto e a rimettere a posto quei piccoli disturbi più o meno importanti che possiamo avere vedete anche in questa bellissima diciamo comparazione la differenza fra la medicina tradizionale e il ganoderma medicina tradizionale noi troviamo della chimica troviamo della sintetica il ganoderma è completamente naturale qui già diciamo che c'è una grossissima grossissima differenza la medicina tradizionale prendiamo ad esempio un farmaco ha degli effetti collaterali basti vedere all'interno diciamo di una medicina il bugiardino il famoso foglietto illustrativo definito anche bugiardino come diventa sempre più più complesso più lungo il ganoderma in realtà non ha effetti collaterali perché va a alleviare dei disturbi la medicina tradizionale cura una specifica patologia il ganoderma viene utilizzato come prevenzione questo se vi ricordate è stato uno degli argomenti che ho trattato all'inizio la medicina tradizionale colpisce un obiettivo specifico il ganoderma ha un effetto generale normalizzante la medicina si utilizza per delle malattie per curare delle malattie di ganoderma per migliorare il benessere del corpo la medicina è ottenuta attraverso la tecnologia umana il ganoderma attraverso la tecnologia naturale perché nasce nel nostro caso va bene noi abbiamo creato una nostra piantagione ma in realtà il ganoderma si trova spontaneo anche se voi andate a passeggio nei nostri boschi nelle nostre macchie lo troverete spesso attaccato a qualche albero la medicina tradizionale è fatta da singole molecole pensate che il ganoderma ha più di 400 elementi se disgraziatamente avete un sovradosaggio del di una di una medicina sintetica dovete chiamare il 118 il ganoderma qualsiasi uso se ne può consumare diciamo quanto se ne vuole che non ha nessun tipo di contraindicazione ad eccezione ad eccezione questo è molto importante io lo do come suggerimento quando magari suggerite il ganoderma di chiedere se qualcuno già sta prendendo tipo la cardioaspirina quindi ha già dei fluidificanti per il sangue perché il ganoderma avendo questa sua tipicità può diventare può essere è controindicato diciamo per questi per questi soggetti quindi chiedetelo sempre perché in quel caso il ganoderma è l'unico caso dove non non va consigliato l'inzy coffee tre in uno quindi ve l'ho parlato prima questo è un caffè solubile tanti si chiederanno ma perché mettere un integratore all'interno di un caffè perché ci sono molte persone che non amano magari trattarsi con degli integratori però sono degli abitudinari quindi non vogliono abbandonare le loro abitudini alimentari magari fatte dal consumo di caffè e quindi arricchire il caffè quindi una bevanda di uso quotidiano con una percentuale di ganoderma sostanzialmente non cambiamo le nostre abitudini ma facciamo bene al nostro corpo in più il ganoderma per le sue peculiarità va a levare quell'acidità del caffè che molte volte noi sentiamo quel piccolo bruciore allo stomaco quel fastidio allo stomaco il ganoderma attenua diciamo questo questo fastidio il caffè come vi ho detto prima il nostro 3 in 1 è una miscela speciale di arabica e forte con aggiunta del di ganoderma non contiene coloranti artificiali e conservanti poi abbiamo un altro prodotto che abbiamo introdotto da 3 o 4 anni che è sempre un caffè solubile arabica e forte però a questo punto al posto del ganoderma abbiamo inserito il cordyceps che è un altro fungo il cordyceps esinensis un altro fungo medicinale e il cordyceps che in particolarità riduce il senso di stanchezza senza dare nervosismo aumenta l'attenzione migliora il livello di energia migliora la concentrazione al lavoro o comunque in tutte quelle attività che svolgiamo quotidianamente è un anti-aging potentissimo migliora la stimolazione sessuale quindi anche qui diciamo possiamo andare ad alternare magari anche nel corso della nostra giornata il cordyceps coffee o il black coffee del quale vi ho parlato in precedenza quindi il caffè che non ha aggiunta di zucchero e di panna vegetale con il cordyceps coffee quindi possiamo a secondo diciamo della giornata assumere un caffè piuttosto di un altro questo appunto il black coffee del quale vi ho parlato in precedenza è un caffè nero con aggiunta di ganoderma aiuta chi soffre di diabete a ridurre i dolori articolari ottimo guardate l'hanno usato tantissime persone quando si ha una leggera emicrania una tazzina di black coffee nel giro di una mezz'ora 45 minuti il dolore di questa emicrania va gradualmente a scomparire senza fare diciamo per forza l'uso di antinevralgici poi abbiamo il cocozzi anche questa diciamo che è una bevanda fantastica è fantastica perché è cacao sostanzialmente quindi contiene ganoderma e cacao è una bevanda alcalina è una bevanda con enzimi ed è un antiossidante quindi suggerisco anche ai nostri figli che magari fanno utilizzo di cioccolata industriale di far provare il cocozzi perché a parte che è buonissimo ma poi ecco appunto con questa aggiunta di ganoderma dà veramente uno sprint tantissimo per iniziare una giornata Morinzi anche questa diciamo che è una bevanda che io amo tantissimo l'ho conosciuta ancora prima della Dixenne con un'altra azienda ed è una bevanda che secondo me fa pari con il ganoderma quindi prenderla in combinazione effettivamente si ha una potenza incredibile di vitamine e di minerali di antiossidanti questo qui in particolare è realizzato con il frutto del noni che viene raccolto dalla morinda citrifolia il succo di noni utilizzato tantissimo in Asia e in Polinesia nel nostro caso noi abbiamo aggiunto anche il carcadè quindi abbiamo aggiunto anche quest'altra pianta quest'altra erba il noni viene sempre dalle nostre coltivazioni che sono sempre in Malesia è ricco di ingredienti naturali non ha additivi aromi artificiali coloranti o conservanti quindi un prodotto assolutamente naturale quali sono i benefici facilita la digestione aiuta a migliorare la circolazione sanguigna aiuta a neutralizzare i radicali liberi rinforza il sistema immunitario questo è un altro degli elementi importanti e aiuta ad abbassare la pressione sanguigna noi abbiamo il nostro corona ambasciatore l'asolo coccio che sono quasi mille giorni adesso ha quasi raggiunto i mille giorni mancano pochissimo che ogni giorno beve una bottiglia da 285 ml di succo di noce di Morinzi quindi ha deciso di intraprendere questo percorso per questo percorso di salute infatti viene chiamato mister Morinzi e qui diciamo in questo suo percorso ha coinvolto centinaia di altri distributori in tutto il mondo questo perché appunto è un prodotto importante che preso in combinazione con la spirulina e il ganoderma in realtà ci dà una protezione assoluta poi abbiamo ritenuto che tutto ciò che fa bene al tuo stomaco può far bene al tuo viso che è il tessuto più grande che noi abbiamo e quindi anche qui abbiamo una serie di prodotti di uso quotidiano che sono il ganomassagioil che è ottimo per i massaggi sulle gambe il sapone a base di ganoderma il dentifricio lo shampoo il bagno quindi tutti i prodotti che effettivamente possono andare a migliorare la nostra la nostra pelle poi ecco appunto due anni fa abbiamo introdotto anche una linea cosmetica perché veniva richiesta diciamo dalla nostra rete dai nostri distributori anche qui diciamo in joint venture quindi in collaborazione con una delle più importanti aziende coreane di ultima generazione siamo andati a realizzare queste due linee molto importanti la Genpuri e la Ammiracol che sono completamente naturali quindi hanno conservanti naturali e soprattutto anche qui noi ritroviamo che cosa come elementi principali il ganoderma e la spirulina il sapone appunto del quale vi accennavo in precedenza contiene olio di palma e ganoderma e aiuta a riequilibrare il pH della pelle fra 4,5 e 6,5 il ganomassaggioile che è un prodotto richiestissimo è al 100% olio di palma puro con estratto di ganoderma dà sollievo ai muscoli e alle gambe quindi per chi ha quella stanchezza alle gambe con un massaggio diciamo di olio al ganoderma diventa qualche cosa quasi una crema scaldante appunto e se riscaldato è un ottimo trattamento sia per i capelli che per il corpo è anche un pronto soccorso da portare sempre con sé quindi anche per piccole ferite cicatrizze immediatamente piccoli ezemi insomma è veramente un qualche cosa da portare sempre nel proprio beauty case il dentifricio il dentifricio è apprezzato tantissimo dai nostri distributori ma soprattutto dai diciamo i nostri clienti che sono dentisti perché ha praticamente un'efficacia sui denti ma soprattutto sulle gengive in maniera incredibile quindi riepilogando i prodotti della TXN sono naturali sono per il benessere sono unici quindi nel loro genere questa è una cosa importante cioè che quando ci dicono beh però quell'altro prodotto no il nostro prodotto è unico il nostro prodotto di XN segue determinati processi di standardizzazione di qualità di unicità che non possono essere equiparati ad altri prodotti sono prodotti affidabili e lo attestano 10 milioni di distributori che noi abbiamo in tutto il mondo che quotidianamente comprono i nostri prodotti sono prodotti alla portata di tutti sono prodotti di tendenza perché salute e benessere è un settore di tendenza sono prodotti di consumo quotidiano e sono soprattutto l'ideale per chi vuole aprire un business il futuro dei nostri prodotti qui abbiamo alcuni dati dell'organizzazione mondiale della sanità che ci dice che nel 2000 il mercato globale relativo ai prodotti fitoterapici ha fatturato 80 miliardi di dollari 8 anni dopo è passato a 200 e la previsione è di avere 50 trilioni di dollari entro il 2050 quindi questo lo dico per chi diciamo già opera all'interno di questo settore io ritengo che sta nel posto giusto nel momento giusto con i prodotti con i prodotti giusti vi lascio con questo appuntamento appunto vi parlavo in precedenza dell'importanza di parlare dei nostri prodotti da parte di voci scientifiche quindi abbiamo la nostra amica la nostra consulente Patrizia Barbanti naturopoda osteopoda chinesiologa che lunedì prossimo alle ore 21 ci parlerà del Morinzi e del Rosel Juiz Morinzi del quale vi ho accennato questa sera il Rosel sarà diciamo una piacevole scoperta e questo diciamo rientra un po' in una serie di appuntamenti mensili che avremo ogni mese quindi ogni mese noi avremo il focus salute e prodotti e poi un seminario sul One World One Beauty quindi sui nostri cosmetici quindi ovviamente per entrambi inviteremo sempre persone competenti che possono in maniera semplice fornire le caratteristiche dei prodotti l'importanza di assumere di questi prodotti e come assumere questi prodotti ci aiuterà in questo percorso la nostra Patrizia che è una validissima professionista e quindi non mancate a questo appuntamento troverete a breve credo che sia stato già pubblicato il link dove registrarsi potete invitare a questo appuntamento amici conoscenti insomma tutte le persone con le quali volete condividere questa esperienza e quindi vi aspettiamo lunedì prossimo alle ore 21 insieme alla nostra Patrizia Barbanti per scoprire le proprietà più importanti per il nostro corpo del Morinzi e del Rosel Giuis per i nostri amici sordi avremo l'interprete della lingua dei segni quindi anche loro potranno diciamo insieme a loro insieme a noi a tutti quanti condividere questa bellissima esperienza io vi ringrazio per la vostra partecipazione se avete delle domande particolari potete mandarmi un'email potete scrivermi diciamo attraverso whatsapp o contattare l'ufficio perché avremo appunto il piacere di rispondere ad ogni vostro quesito per chi avesse perso qualche parte di questo webinar o per chi volesse parlare diciamo di questa serata potete tranquillamente trovare domani sul nostro canale youtube ufficiale la registrazione di questo webinar quindi avrete la possibilità di rivedere e di risentire soprattutto quello che è stato trattato questa sera per il momento vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento di serata e vi aspetto tutti quanti lunedì prossimo alle ore 21 con la nostra Patrizia Barbanti per parlare di Morinzi e Rosel Giuris per il momento buonanotte a tutti Giuseppe vi saluta e a presto a presto